Carlo Morra è assessore alle attività produttive del Comune di Pozzoli. La mantella è da parte dei commercianti che hanno avuto la multa perché non hanno regolarizzato in tempo l'occupazione solo pubblico. Una chiusura peraltro oltre alla multa anche di 5 giorni. Non è forse un po' troppo penalizzante vista la situazione economica che c'è in questo momento? Noi possiamo comprendere il momento di difficoltà economica e finanziaria che è per tutti, per la verità. Però a noi non hanno mai segnalato niente di questo tipo. La cosa che abbiamo verificato è che non esisteva in questi casi richiesta di occupazione del solo pubblico. Quindi sembrava veramente una cosa incredibile che il Comune l'anno scorso in Consiglio Comunale abbiano approvato un nuovo regolamento apportando delle agevolazioni per queste attività imprenditoriali e gli stessi non hanno fatto richiesta. Credo che non c'è un corretto rapporto fra amministrazione e questi imprenditori. Io credo che siano anche giuste le sanzioni perché le regole devono essere rispettate da tutti. Assessore, passiamo ad un altro argomento. La vendita degli operatori ambulanti sul territorio plutoalano. Avete fatto una delibera in questi giorni in cui vieta la vendita in alcuni posti precisi della città. Anche questo tratta di regolamentare e disciplinare le attività commerciali sul nostro territorio. In questo caso andiamo a disciplinare la parte commerciale ambulante itinerante. Significa quei soggetti che intraprendono il commercio con mezzi, furgoni, macchine che si fermano per la strada e vendono i loro prodotti. In questo caso abbiamo ritenuto disciplinare, quindi indicando quale sono le strade dove è possibile fare questo. Ovviamente ci siamo rifatti alla legge regionale che dà un'indicazione in questo senso. Quindi abbiamo dato una giusta interpretazione, una giusta indicazione. Tutti possono svolgere le attività commerciali itineranti ma dove è consentito. Quindi in questa delibera non abbiamo fatto altro che indicare le zone dove non è possibile. Per motivi di viabilità, per motivi di praticità, in alcune zone della città non possiamo consentire la sosta per il commercio e quindi rallentare e creare una criticità alla viabilità. Abbiamo indicato laddove è possibile svolgere questo tipo di attività commerciali. Evitandolo soprattutto nei siti di interesse archeologico. Anche questo ci sembra importante. Noi dobbiamo anche valutare e rivalutare forse con maggiore incisività il pregio del centro storico, il pregio dell'avvitiato Flavio. Dobbiamo anche guardare a un certo decoro cittadino. Certe forme di commercio ambulanti di Tiran possono essere così in alcune zone della città dove non si va a intaccare il pregio, il valore storico architettonico della nostra città. Io credo che anche in questo c'è una polemica che poi non poggia su reali fondamenti. Stiamo dando una nuova immagine della nostra città, stiamo lavorando da piccole cose che possono sembrare piccole ma sono importanti perché lavoriamo per salvaguardare il decoro cittadino. Io credo che questo sia anche uno sforzo importante che stiamo facendo sempre che dando le giuste indicazioni a chiunque voglia svolgere un'attività commerciale. Grazie. Grazie.